spesso il primo studio è sbagliatissimo che fare rifare andiamo a vedere ah vedi che qua vedi che sì ok qui c'è siccome c'è tutta la testa tutta questa storia la potevi fare perché noi abbiamo tutta la testa che quindi la testa mi fa così adesso mi fa così e qui ci abbiamo il taglio l'altra cosa che io non avevo notato questa strana vedi che era una testa di scorcio cambiano tutte le proporzioni perché l'altra cosa che io non avevo notato è che questo qui deve essere un po così e quindi questo sta così e mi sbaglio questo taglio perché è più ancora più orientata vedi guarda più giù allora vuol dire che questo qui è più più stretto e allora mi quadra basta un po mi quadra un po perché se io calcolo sto facendo lumis giusto se io calcolo questo poi è qui interviene pure la prospettiva perché se guardi questo è così questi occhi stanno così e la bocca sta già così lo vedi che vanno c'è c'è un punto di fuga là sotto in basso vedi dagli zigomi si vede o vedi o no o non ok non mi contraddire quando dico le cazzate per favore però sì in effetti che poi questa sale su fa così quest'altro sale su fa così qui rientra qui ci sarà la palla dell'occhio qui c'è lo zigomo qui c'è l'altro zigomi e qui c'è la palla dell'occhio eccetera 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 e qui c'è il corpo del naso qui c'è la clabella qui c'è il sopra e via così in effetti quello che vedo è che in effetti ecco com'è questo perché lui questo guarda eccolo com'è perché è vista da sotto sta testa è visto tanto è vero che qui vedi il sotto del mento vedi vedi la pappagorgia piace questo termine francese la pappagorgia ok quindi tutti questi ragioni come vedi io non è che ci ho azzeccato dal primo colpo è cioè fai ragionamenti perché non è così chiaro come come ti si presenta quel volto poi diventa sempre più istintivo e veloce ok d'accordo andiamo a vedere che hai fatto te l'hai un po' raddrizzata è buono questo lavoro però è un po' raddrizzata lo vedi o no questi vanno benissimo sì questo è un po' largo no però cioè vedi sta dentro un quadrato invece dovresti dovrebbe essere un po' più stretto però mi vanno 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 bene perché lo studio era quello giù probabilmente strassi probabilmente qua sopra qua sopra però sicuramente nel modello non c'era cioè se c'è luce qui c'è luce pure qui sì no vabbè era solo per per fare il sì è uno schema fatto così sì sì non è il modello di schema però quello che hai fatto va benissimo sono molto contento ci fermiamo qui domani una nuova lezione da cinque minuti ah un attimo lo sai che dal giovedì alla domenica dalle nove e mezza di sera mi trovi su twitch mentre dipingo e disegno e chiacchiero con chi mi viene a trovare trovi il link qua sotto vieni anche tu vieni anche tu